ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale youtube video manga di oggi dedicato all'unboxing del numero 20 di demon slayer in versione limitata perché come si può vedere contiene degli omaggi ovvero una raccolta di cartoline di 16 cartoline eccolo qua e adesso lo andiamo ad unboxare e a vedere come nel dettaglio prezzo di 8 euro e 90 ed edito da star comics adesso andiamo ad aprire e vediamo un po la questione questo astuccio con le cartoline sì in questo video andiamo più che altro a prendere in esame l'edizione di per sé più che il contenuto del volume si vuole essere per l'appunto una recensione di esso visto che comunque dobbiamo finire diciamo di recuperare tutti i volumi quindi magari poi riuscirà una recensione sull'opera completa più avanti eccolo qua qui c'è questa specie di sovra copertina in cartone con appunto quello che è contenuto qui ci sono insomma raffigurate tutte le cartoline qui c'è ovviamente il volume eccolo qua e qua c'è l'astuccio con le cartoline questo astuccio in cartone demo slayer volume 20 limited edition ah guarda che carina nezco sì a forma di insomma busta busta da lettera col franco bollo con la data di uscita 20 luglio 2022 bellino dai davvero adesso proviamo a vedere le cartoline ho davvero fatto molto bene sì proprio in in cartone sono vero bellinello a tangiro ah che carini protagonisti persone cibi vero molto bello anche i nomi anroji ok ah sì questo è uguale sì no scusa sullo sfondo si può notare anche qualche il pannello del manga eh sì è vero quassù nezzuco vero molto belle anzenizu i nosche eh sì sfiori si che riprendono un po le copertine dei vari volumi di demo slayer eh sì ma davvero belle tanta roba uzzui per la mia gioia eh sì no no ho fatto comunque un bel lavoro cioè sì no davvero delle bellissime cartoline sì il retro è uguale appunto per tutti come come detto prima e niente veramente veramente delle bellissime cartoline ragazzi consigliata questa insomma versione del del manga a tutti i fan di eh questa serie e questo era il nostro video unboxing di questo volume venti di eh chi mezzo noi ha insomma demo slayer se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao